sta cogliona non mi sembra dell'umore mio fratello per la civice sarà orgoglioso sarà una di quello che ha portato il cabrone a massazza potrebbe sarà orgoglioso sarà una di quelle che stimolerà l'evoluzione delle civici imparano a stare anche sott'acqua perché finita il cesso è ok eccoci bene sì 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 bene mi girano un po i coglioni perché non ho puntata così dobbiamo un attimo fai fai non ho sparato un colpo comunque no io sarà una ficcata madonna e tante allora qui dai dai orco cazzo lì ci scrastiamo sì ho cercato di lanciarmi con cerchio comunque ma benissimo dentro ah no ok 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 cazzo cazzo il bordo giallo sto arrivando sto arrivando lo volevo lì ma sono atterrato malissimo bene gente andiamoci dove è andato u 2 qui eh mi vuole una terra cazzo aaaaah lo sta restando qui dietro ho sentito il rumore sbagliato Non ci credo Lo so, lo so, il Gulag Sì, sì, felici pure Insulta pure quei bastard Benvenuti nel Gulag Questo è il Gulag Sì, credimi Lo conosco molto meglio di quanto lo possa pensare Ho provato la La beta di Cold War, bro Com'è? Senti benissimo i passi Sono dentro In fondo in mezzo, dietro la piscina sinistra E arrivare a te è proprio pazzissimo Ok Sono dentro Ok Serve a qualcuno? Grande Comunque si sentono così bene i passi Al punto che è tornato un perk come Ninja Alla Già, già Già, già Io sto lentamente surfando verso Cosa Ti ho messo un po' più vicino di me? Sì, sì, ok No, sì, ti ho messo su di me Io sono partito da fuori zona Fuori zona a ovest Ero su Udam Siamo live Comunque Bene Io ho raccolto un'arma ma non la vedo Ah, ok, grande Sei tu, il paracaduto è soft Tu ho il portone Eh? Tu ho il portone Sì, scusami Mi è piaciuto quel re Eh, lo so, lo so, colpa mia È stata una giornata lunga e dura No, davvero No, non era ironico però Però sento Sarà un rumore ambientale No, era indecisione su un'arma da raccogliere No, scusa Eh, oggi veramente Ho detto troppe parole Non sono più bravo a comunicare Ma io posso fare questa procurata? Eh, la Peppa e la Peppina Ma che roba inculosa L'hai vista? Prossimo obiettivo localizzato Eh, no Fare dei giri incredibili Ah, ho capito Hai fatto bidone e poi tettoia Ho fatto bidone e tettoia Madonna Sì, è interessante Cos'è? Che design di merda Con il caricatore messo tra Dove tieni la mano Con il grilletto E il calcio Non capisco Abbiamo i soldi Sarà che ero a disvisura Per il di equipaggiamento Mi era uscito un po' Napoli Scusa Abbiamo i soldi Sento cose Sento ancora Cosa sono fuori Eh, questo non sei tu Arrivo dove? Cosa, cosa, cosa? Più piano? Terra Guarda sulla passarella lì Mi corazzo Mi ha tirato come gli scemi Ancora a terra Ok Visto di un dio Era anche a terra Però mi ha sparato forte Dietro bidone Ok Grande Come hai fatto? Possiamo andare a spendere Questi soldi Per favore Perché no? Perché no? Vado Andiamo Sì, sì Ma sto andando Guarda come peggiora la situazione Già che sono Cos'hai fatto? No Perché no Però già che sono Financially independent Vado per i cazzi miei anche Anche tu sei fan Hanciere independent Game on What you gonna do about it? You move Direi prendo io Beh prendo io Mi prendo i tubani Noi facciamo la stanza Prendo io Oddio che rimbalzo di merda Speranno che rimbalzi Scusi dai Guardi la mappa Sì, occhio a sta cassa Scusami in anticipo Ok Due contatti Uno sopra di noi credo sia un parà Sì è andato Però loro sono una coppia organica Non so perché mi sono invagiati i bersaglieri Loro credo che siano Non so se sono per aria Va bene Va bene Questo è per terra Arriva da te Occhio No è arrivato da me Ti vuoi Tu che ti agiti tanto Sì sì beh Sì sì beh Sono atterrati alla casa del gommista Ah ho trovato un attacco a grappolo Bronco un uovo in canna Tu sei già scarico lo prendi tu No anch'io un uovo in canna Ah Ascolta Stanno andando verso la cassa Dai 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 Arriva 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 Chilba Fai rezzirei fare pizzo Dopo la game Mi chiede Devil Tox No Ma sì USA Marine Fatica però Però dovrei star per vederlo no? Dovresti stare per vederlo Ah perché è in mezzo In mezzo a le cose E dovrei stare per vederlo Ma non lo vedo Non sempre io Dovrei star per vederlo però Mi sento un po' in pericolo Vero? Sì mi sento con la testa che sa per esplodere Ricordiamoci ci crediamo anche a sinistra Cosa è quello? Dovrebbe essere No è che dovrebbe essere qua davanti Cioè in mezzo alla conca tipo Era letteralmente in mezzo alla conca Cioè era a sinistra di quella roba lì Verso la conca Cazzo ammessa sta cazzo Uno è dentro la casa del gommista ancora Ho visto il percepito dei movimenti Dov'è? No Ora mi salgo sta scale Ti faccio vedere dove è il maggiore Ma sai che è sopra il vagone? Cosa sono queste cose? Cosa sta succedendo? Un bombardamento a grappolo Del rumore No Però io non so come venire con la cassa Sottratto fallito Ritirata Parà risolta A me puzza un po' di cazzo Bella mossa Sto tornando gli equipaggiamenti Uno è il negozio Uno è il negozio Sono insieme Sono degno a comprare Magari riprendono adesso Uno è cassa lontana Troviamoci al garage Sì sì tanto Oh che lancio di merda che ho fatto No non sono assieme Si sta sparando Si sa che non sono assieme Hai rimasto un pallino solo Sì ho trovato i soldi più equipaggiamenti Bro adesso vado al negozio e tira esso Sì sì cool story bro Non team Eh no È rotto Un pagliaccio con lo scudo Allora com'è andata? Eh sto aspettando di saperlo Ah Ah Video di puttana che non era su wav Ah no Lo che li ballano in testa è i soldi Metriata c'aveva quello Porco dio Siamo qui che ci guardiamo Gli ho tirato un c4 Lui si è chiuso dentro Ah sto vedendo Ah ma tu sei morto morto Ma scusa Questi? Porco dio Ma questi? Porca pittà Quella madonna Con Il che si ha sparato Con un grau Godo 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 È un po' Godo Eh io un po' no No per la sorte C'è un bella vera Un mangio e bevi di nuovo Cristo Dio Prendo un nocciolone Salta è per quello Ma cazzo È un po' mi scoccia Perché comunque Eh sì sì Nel nostro piccolo stavamo rolling Eh sì sì Cioè Mi scoccia Ma perché no? Millimetro dopo millimetro Ostacolo dopo ostacolo La vagina con la sua acidità micidiale Il passaggio ostacolato dal collo dell'utero E l'utero stesso Ma spiegami una cosa seria o? Sì sì Ma spiegami uno No ma seria Cioè non sto dicendo niente di falso Però mi fa ridere No 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 però Questo è un narratore della terra di mezzo La vagina con la sua acidità micidiale Quasi di solito Ci guarda i ghepardi Questo come fa Sì sì Stavo dicendo Con sto commentario Comunque Che non vada perso È tutto registrato Sì ma ricorrere taglio io Adesso combatteremo Chio Chio Sì perché una volta che sciogli Che cazzo fai? Niente Che cazzo fai? Sì sì Battle Royale Avete gas in avvicinamento Andate alla zona sicura Ooi Sì cazzo fai? Sì cazzo fai? Sì cazzo fai? Sì cazzo fai? I want a night train Sì cazzo fai? Sì cazzo fai? Sì cazzo fai? Anche se mi fa cagliare St angolo di downtown Anche a me Però ci veniamo sempre Com'è come non è Sento passi E tu su tetto Io ho comunque un pompa Quindi se vengono a trovarmi qua Loro non me lo conterà Meno Sì cazzo fai? Sì cazzo fai? Sì cazzo fai? Sì cazzo fai? Podcast Sì cazzo fai Solde Soldi 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 –son mi costato? –Cozzi codi kah vai tu mi guardano sempre strano se sei madonna quel leone ma perché vedi il male dove vuoi vederlo sempre le con la zampa sulla fontina abbiamo davvero un negozio vicino niente c'è un venditore qua dimenticato basta no? si si ah però qui c'è una mucchione corazzo come si è messo? eh ho la sacca quindi potrei essere un donatore ma l'avrei buttata un po' più indietro ma ma chi sono io? ma il seee vuoi le corazze? no no sono maxato ma quindi adesso? eh niente adesso troviamo altri stori poi non vuoi vieni e ci facciamo le taglie così ma io a morire non c'ho già se vuoi ma usiamola non so cosa non so cosa fare non lo so è che mi sembra un po' la ricetta del disastro andare in giro così la crisi dello scultore invece che dell'inventore beh secondo me anche uno scultore va in crisi oh eh si va questo qua che viene al negozio dici? no osservo osservo downtown fino alla morte no no questo è su un tech no no questo è un progettista si guarda come si muove ah questo si lui dico lui dai scendi coglionista abbiamo uno su grattacielo eh mi sa che è no no hanno tolto ho seguito no sono tutti tutti panani quindi questi erano 4k nel cesso ok si però fico ascolta ci prendiamo quel tetto lì e ci facciamo l'edificio scendendo insieme si facciamo esercitazioni SWAT style non so cioè alleniamoci a pulire gli edifici non so no davvero no perché di sedermi in un altro no no non ho voglia ah aspetta che ho un drone comprimi un secondo aspetta che sono mezzo al coso però abbiamo un team ti sta salendo un team dietro se sei sopra no sono al piano terra dentro la wall allora c'è uno al piano terra anche qua ah sono saliti su tutti e due ok mannaggia stanno tirando prendo il cavo eh uno è proprio davanti al cavo parcheggiato però no non più non più non più vado 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 scintille scintille cazzo eh mi aspettavo il cieco dietro l'elicottero dove ha sparato mi ricorazzo un attimo sono due destra anche destra terra eliminato mi corazzo vedo l'altro l'ho scappato? no no ancora là ancora là? ah sì lo prendo l'elicottero? no è atterrato uno sull'elicottero approfittando delle distrazioni maledetto cazzo eh ma non è lui eh eh sì dov'è lui? aggiornato? eh non lo so solo che mi ha fragato ma è sempre lì solo per essere lì tipo secondo sensore mi ha scappato? mi ha scappato? no il cazzo lì visto sto facendo in giro run si fa appoggiare l'arma dico se fa appoggiare l'arma tantissimo si che è un laser ma quello lì sull'elicottero cosa ha rischiato? ma io mi sa quanto gli è passato il secondo razzo no 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 a proposito di razzo così però sai come conquistarmi scambio con no no però scambio con colpi assalto se mi hai sì forse potrei grazie no ma giusto per scendere qua ah guarda appena ritrovati tieni oh no vabbè ma stia mai hai capito il drone? aspetta che lo riuso allora bro fammi tornare ad area aperta aspetta vero che è ah ma lì c'è una sacca che adesso mi vado a prendere c'è una sacca che adesso ti vai a prendere qui il primo che ho ucciso io sento passi e sarai tu pieno di coraggio ah ma questo era ancora più pieno di soldi non l'avevo sfogliato eh no infatti lo vediamo un po' lato port niente nelle immediate vicinanze lato bank invece sono ancora utili gli equipaggiamenti qui non so se siano i nostri sono le nostre quando andai a vedere mi è sembrato di vedere una cassa però no è una cassa se sono i nostri ah no 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 allora su marker blu sono gli equipaggiamenti di qualcun altro bro ah marker blu è un'altra cassa si si tra un minuto poi arriva il gas e non siamo vicini al zona però no però io continuo ad avere bisogno di colpi beh lo trovate un po' vedi qua cioè questo è però buonissimo cambia già tutto vorrei vedere se arriva qualcuno a appoggiarsi gli equipaggiamenti allora bombardano là quindi immagino gente ti interessa gli equipaggiamenti? si uno si è paracodotato là non particolarmente mi interessa più levarmi al cazzo ok quanto dobbiamo levarci al cazzo? oh madonna eh qui alla nostra sinistra io non so mi ci butterei sono un po' di strada va bene va bene va bene va bene va bene stiamo stiamo però una cosa sono due una terra anche io l'altra a sinistra ok arriva lo sento o sei tu? no sei tu forse sti qua problema di gas bro viene a restare a me forse stanno facendo il giro da dentro perché dobbiamo andare porco dio cazzo merda mi ha preso porco dio scusa bro niente niente di che era dietro di me comunque cioè io stavo guardando verso la porta dove sei entrato lui era dietro di me ascolto un attimo un messaggio cazzo vinci questo scontro e torni in prima linea perdi e per te è finito guadagnati la libertà soldato ok capite poi se vuoi eccomi gaaaaazzo eh come com'è la situazione non ho più seguito gli sviluppi scusa eh qua dentro con me ah ok quindi mi vesto mhm sento che corre sopra di me passa qua a dito che sono le calazze eh non c'è più il mio V13 tutto qui team wipe team wipe ah ah ok allora è ben risolto si stavano inseguendo loro due sì mi hanno inculato l'M13 però io il mio non l'ho preso perché pensavo di trovarlo per terra ah c'è qua l'ha preso lui cazzo eh no niente te l'ho preso io te l'ho preso io ho lasciato giù il mio RPG eroe eroe guarda team wipe team wipe come scusa da me è arrivato proprio insincro mi ha detto madonna che riflessi a leggere il feed mi ha detto idem idem micchia sì sì siamo super in sync guarda come mi ritorna le comunicazioni guarda il feed vedo due nomi diversi ok allora abbiamo risolto il problema abbiamo gente che si tira qui piano terra quando vuoi un'arma fermati un attimo ma io uccidero e ucciso con l'uze no no lo so che sei fortissimo no ma no non è quello che volevo dire ma no però volentieri questo qui come faccio come faccio come faccio quadrato grazie grazie scusa sono demente c'è gente che tira su sto tetto secondo me continuiamo ad averne piano terra davanti a noi credo anche di sentirle sì erano linee in qualche casino marcato 47 metri un contatto sulla destra oltre questo edificio ok non so se attraversare e prenderlo 30 metri è lì dentro di qua muoversi sì sì lì dentro io sento passi anche qua sopra anche io vero? sì sì e come aspetta capro sneaky ah è andato quello davanti a noi è andato è andato in là ha trovato compagnia vedo vedere se riesco a dire qualcosa anch'io due qua una terra uuu manca un colpo lui no non è vero sono tutti giù a terra mi sa che sono morti porca merda sì perché mi hai dato le due kill vaffanculo ah cazzo mi tirano dal tetto della merda ahhh ma di nuovo sciolto in frettissima comunque puttana adesso la roba nel gas di due metri tipo grazie blu se compro la maschera te la posso lasciare se ce l'hai già forse va per terra cazzo cos'è 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 ah è uno qua dentro puttana dio ah ok sarà così per fare la merda dentro ah è gulag grande non è bro arriva il gas eh catto su sto sciacallo al super volo eh dov'è che ci ha sparati? ah eeeh ok quindi ma perché altro ha risorse in fretta cosa? eh sì sì no no va bene arrivo arrivo lì mi campo sulla cassa ok ah cazzo è sotto me la metri maschera ho trovato il krakatoa uff cazzo è proprio un elicottero sopra la testa speriamo che non faccia da guardatemi ho riuscito a attraversare per adesso la piazza dei train arriva quanto vorrei un sensore cazzo è leggendario cazzo è ma donna gesù però non ho avuto la cassa ho avuto la cassa ah già cazzo bravo bravo io mi ero concentrato su quella normale macchina 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 che macchina lo sa? sì lo sa sono io vado di la sacca che sono pieno ah ce l'ho anche io ah ce l'ho anche io tieni un cicciolino prendi gli accorgiamenti riesci cazzo 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 ah sì ci tirano da davanti sì sì vantanadio sì vantanadio sì ah ma è qua? è dentro? cioè oltre il muro? sì come cazzo è? no ah dietro parco dio ah eh grande alla mia sinistra smart test dopo al ah 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 beh abbiamo riscato una bella remonta eh sì eh sì sono un po' amareggevole mh 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 mi credo mi credo non dovrò ad aprire un'altra birra arrivo subito mh mh riscaldatevi per bene tra poco si entra in azione ok Abbiamo rischiato un comeback allucinante Ma tu non ci sei E quindi è stato proprio un rischio Sì Sei nella nuca Eccomi Sì Abbiamo rischiato un comeback allucinante Ma allucinante proprio Non ho idea di cosa stia succedendo Cazzo Eh lo so Pensata malissimo Aspetta che vedo Aggiustiamo con lui Quello più a nord Allucinante Bersagli disponibili, al lavoro. Cassa di sparte identificata, posizione contrassegnata. Se vuoi andare a prendere l'altra, io ho preso i cavi per salire, così qua mi butto su. Non so cosa c'è dopo. Non puoi lasciar stare YouTube? No, lasciami stare. Arrivo, adesso cerco di rendermi utile. Ah, ho una tessera. È una tessera che non riusciamo mai a usare, ma... No, però ho una tessera. Aspetta che vado a mettere... Per i prossimi simpaticoni che salgono con i cavi. Ho messo una mina davanti ai cavi. Vaffanculo! La porta è aperta? Ah no, non c'è la porta. Mi ci butto, immagino. Cato ricco mi ci ficco. Se vuoi stare, poi... Ah, ok, sei già là. E c'ha farà farà, c'ha farà farà, c'ha farà farà, c'ha farà... Ah, quella è aperta sulla testa. Sono io. Sei tu, madonna! Madonna! Scusa, ma è stato molto bello. Sarà. Allora, io ho visto gente per carutarsi qui che non ero io. Ah, voilà. Appoggiamenti? Eh, vuoi poter vincere? Eh, c'ha farà farà, c'ha farà farà, c'ha farà farà. Ficca. Dove ributto? Non qui. Rico inizia all'altro angolo. Ah, cazzo, rego. Ti ho accusato? Ti ho destabilizzato? Non eccessivamente. Che si fa? Corazze come si è messo? Oh, la sacca. Ah, posso chiedertene un paio, allora? Certo. Così non vado in quel negozio di merda. Grazie. Ehm, dove... Vuoi farne un altro? Non lo so. Cioè... No, però, ospitalo... Che palo se stai. Un attimo. Lasciate stare. Però non c'è un cazzo. Non lo so, bro. Iniziamo una missione. Andiamo a conquistare... Andiamo a conquistare Superstore. Mm-hmm. Eh? Sì. Dai. Stocotto non mi ha già rotto le palle. Eh, lo so, ma tu hai una cosa con gli elicotteri. Comunque se posso dire... Sì, 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 sì. Elicottero, due punti, vola. Mio fratello. Stocotto non mi ha già rotto le palle, comunque. Sto in difesa. Scusate, perché ne arrivo. Soldato a nemico ho sbagliato l'otterraneo. Spiace, ragazzo. Sì, sì. Eh, ce n'è uno negozio. Due negozio, l'elicottero. Arrivo, 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 arrivo. So. Cattroia. Uno a terra. Vincolo distrutto. C'è l'altro qui. Terminato uno. Cazzo. Cazzo. Oh, ma perché mi devi sparare dentro sulla terra? Dov'è? Della sinistra del negozio. C'è l'altro, guardavi tu. Fammi fare, fammi fare. Non la due, no. Completa la configurazione. Lasciami stare, no? Ma sto trasmettendo dal vivo. Cazzo. Mica, sta provando un master flank. Abbiamo uno scontro. Preparati a combattere. Sei il prossimo. Sono dentro. Ah, con la pistola? Per ti e per te è finito. Vallo fuori o conquista. Non ci credo che pollo! Gli mancava un colpo. Stanno succedendo un sacco di pasticci qua. Eh, io... Se vuoi ti guardo. Non ne so. Ma, intanto ricaricare. Dicevamo. Dicevamo. Non sei quello che cercavo, però. Vuol dire che l'altro ha fatto il cuore di leone e se n'è andato. Possibile. Ci credo anche un po'. Ma purtroppo non ho aspettato che lo facesse fino in fondo e gli ho distrutto l'elicottero. Allora, visto, 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 visto. Destro? Cazzo, arriva lo spotter. Grande! Piggio, mi rasta, mi rasta, mi rasta, mi rasta, mi arrivo, 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 arrivo. Arrivo, lo ninjo, lo ninjo, lo ninjo. Grande! Sto aggrazzando. Micchia, gli vado giù, ma... Cioè, la scimitarra di Napoleone. Però... Ora, guarda lì che guarda in alto. Rotto. Mi ha tirato l'ingoggiamento. Baaaa! In salto! Coglio! Coglio! Uh! Porca troia! Cosa? Aspetta che spoglio... Non ho ancora spogliato nessuno di tutti quelli che sono morti qua. Io ho bisogno della sacca. Arriva un... Ma qua c'è ancora tutta la tua roba, sacche, cose. Eh, ho trovato il cecco... Comunque quello che abbiamo ucciso lì sopra... Che praticamente hai ucciso lì sopra era... Aveva MP5 e cecco nuovo tutto Damasco. Spostamento della zona sicura. Sto coglione. Eh, sarà. Comunque per terra c'è tipo un nugolo di corazza incredibile. Eh... S'è successo un po' di cosa. Eh, vuoi prendere un Wabbo? Già che siamo qui che camperiamo... Sì, dai. Puzza di cazzo tutta sta storia, però. Io quindi ho un fucile da masco. Ah, quanto che bevo. Dicevamo... Eh, arriverà un sacco di merda. ...conquistiamo Superstore. Sono due al negozio qua. Ecco che abbiamo fatto questi due. L'equipaggiamento, prendo Ghost... Quad? Quad? Oh, no. Oh, non ho preso il sensore, aspetta. Coppa il mio secondo. Ma chi è che mi ha inculato il sensore? Ma perché? Vabbè, mi sai dire qualcosa in più? No. Eh, verranno qui però. Passeranno la sua stanza. Per forza. Oh, da questa porta qui, dove sono io? Andate il nemico in arrivo. Pure. Qualcuno sul treno? No. Sto il rumore di quad, però. Andate il nemico in arrivo. Non ho visto attirare nessuno, però, di qua. Ah, sì. Eccolo là. Un rotto. Madonna. Però io ho bisogno di quegli appoggiamenti, però. Vorrei non trovarmi col gas e la gente che ci guardano. Andiamo, 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 andiamo. Sto il simpaticone qua dentro, sto comunico. 38 metri, 300. Sì, era atterrato sul tetto. E i brosi tirano qua davanti a me. Sì, io ce l'ho sopra. Ah, porca troia. Ce l'hai sopra? Quad. C'è, macchina. Questi verranno al negozio. No? Che casino che fanno a sto schiale. Ehm, arrivo. Mi sa che è sul tetto, sto cazzo. Ehm, se è lì, non... Sì, sì, ce l'ho sopra. Che bando? Non mi piace un cazzo sta mossa, eh. Devo dirtelo. Eh, lo so. Eccolo lì. Lo sapevo, è sopra di me. Porco Dio. Porco. Eliminato. Non ti... Porco Dio. Bene. Questi sono due. Eh, dove cazzo lato? Eh, boh. Provare a dare un occhio dentro l'ospital se ci sono dei soldi. Ah, magari lì a lui. Loro. Sì, capito, è interessante. Sono qua sotto. Eh, loro hanno i soldi per mio fratello, però. Io ho capito. Ma questo è metallo. Questo è il tetto. Vici? Sì. Tlan, 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 tlan. Cazzo. Penso che da dentro qua non posso salirci. No. Non cerco buono io, se vuoi prenderlo. Sì. Gli spari però erano sotto di te. Cioè, probabilmente gli stanno sparando dal tetto, però uno degli interessati era sotto. C'è un'altra cosa che da qua. C'è un'altra cosa che da qua. Vale? Vuoi avere una bella sacca di soldi? No. Povero come una merda. Come una merda. Comunque ti dicevo io, uno check veramente buono, se vuoi. Cazzo. Se vuoi prendertelo per il viaggio. Scusa, è stata quella nuova. Sì sì. Hai un minuto prima che iniziamo a muoversi il gas. Eh, che andarmiamo a muoversi da qua. Eh, lo so. Nel piano di sopra, se vuoi, ce n'è uno molto meglio. Scusa, so che non è molto entertaining. No, no, ma guarda che secondo me erano loro. Dici? Sono spariti i pallini. Vido che sono morto io. Se no me ne hanno inculato. L'hanno inculato, e come? Boh, corre. Quindi c'erano loro. Sì. Quindi se non era per terra. No, ma era per, deve essere stato per terra, dai. Sì, eccolo qua. Sì, sì. Questo dove mi ricolpisce, eh? Cioè, pochi cazze. L'hanno patchato, però sembra che sia ancora così, regardless. Oh, ma c'è ancora. Io ero di sopra, ho messo la cassa. Di sopra. Eh, le scale sono qua. Qui, in fondo a destra. Cazzo, c'era tutto lì per terra. Poi gli equipaggiamenti pure. Quale? Eh, no. No, scherzavo. Vai qua, vai qua, vai qua. Vai. No, no. Eh, non li ho però. Aspetta. Ah, li ho. Arrivo. Eh, questo qui è sinistra. Vado a dire sinistra. Sì, sì, perché sennò non arrivo io. Dai che magari esprite gli equipaggiamenti. Dai. Get to the top head now. Si, occhio alla compagnia, perché questo sarà... Eh, sì, la sto andando spedito per provare a farteli prendere. Grazie. Apprezzo moltissimo. Guglia, giù a peracotta! Ti aspetto qua nel casottino adesso. A peracotta! Oh, madonna. Se ce la faccio, ce la faccio veramente al pelo. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Gaccia. Non ho preso il comeback. Sono un criminale. Sto correndo col coltello. YOLO. Sto provando a capire, Sara. Se hai di corsa il coltello. Voglio riprepararmi un pacchettino con due colpi. Certo, 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 certo. E se vuoi il check, ma solo perché ero curioso di provarlo. Eh, senza fretta quello. Ah, ok. Pensavo qualche colpo in più. Ah, è morto giù l'E3, dici. Madonna. Ti maneggi, che idea quando mi sarebbe servito? Aspettiamoci tanta roba a Pripyat. Sì. Ma dietro? Dietro basta? Eh, lo so. Non vedo. Ok. Sto puntando a Pripyat a cannone. Sto puntando a Pripyat a cannone. Sicuro c'è gente a train station. Ok. Sì, bisogna fare razia di colpi. Perché su una cosa ho quattro colpi e sull'altra ne ho novanta. Che... Il problema è che ne è sparattante. Toccarse qua dentro. Questa ora ha letto qualcosa? No. No. Quattro colpi. Cazzo. Cosa? C'è una corazza qua. Ah, ma che deficiente. Dimmi qualcosa. No, perché? Ho detto quello che hai fatto. Criminal. Vuoi provare lo sciacallo for the road? Non so. Ah sì, dai. Lo io, eh? Io. Scusa. Ehm... Sento cassa qui nei garage. Faccio il giro. Mi piacerebbe avere un guav. Esatto. Esatto. Vado su sta cassa. Una maschera anti-gas veramente poco poligonale. Prossimo obiettivo localizzato. Ah dai, manca un... Lo sento qua, lo sento qua. Porco Dio, è sopra. Ah, non importa, non importa. Andiamo avanti, bro. Quanto prendiamo questa cassa qua adesso? Adesso. Ah, camion. E il negozio da usare è? Lui mi sa... Oh, madonna. Mi fa vomitare col negozio. Non lo so, la vogliamo la terza cassa? No, particolarmente. No, perché non posso veramente di cazzo, tra l'altro. Ci riuniamo, però. Mmh. Vorrei. Sì. Ricottero da Superstore verso Storage. Occhio al tetto lì dall'albergo. Mmh. Che schifo, signore. Eh, sì, un po' sì. Un po' sì. Uh, sono scopertissimo. Eh, ancora due colpi in più. Abbiamo perso l'obiettivo. Che ho il gas, eh? Sì, sì. Oh, non va, va. Sì, ce l'ho anch'io, comunque. Sentito, spari. Dritto di fronte a noi. Sì, 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 sì. Eh, abbiamo uno a sinistra qua. Un po' più lontano. Terra. Madonna, si è rappezzato. Porca troia. Porca troia. Eh, la sorpresa. Sì, vero. Sì. No, perché l'ho terrato di nuovo. Quindi è un compagno. Spoglialo di qualsiasi cosa. Sì, fatto. Carico. Passiamo da storage. Sì. C'è un po' più di... Sì, c'è un negozio a portata. Oh, anche le piscine che sono ancora dentro. Uh, signore. Eh, anche airport. Però se c'è un cecco buono, c'è... Cosa, sento spari. Qui, però, abbiamo tre casse di equipaggiamento, eh, qui. Visto. Qui. Oh, madonna. A negozio. Per il tu, credo, questo. Non è male come posizione, se schierò per qua, eh. No, no, no. Per niente. Ah, abbiamo una casseria di equipaggiamenti lì, anche? Di qua, muoversi. Sì, sì, infatti direi sorveglianza dietro, prima. Sì, sì. Sì, sì, infatti. È scoppiato qualcosa lì, ma poteva essere un refuso di qualcosa. Ne sono appostato, letteralmente appiccicato a un muro. Sì, sì, anch'io. Dove il loro numero non conterà una minchia. O ci barbano male da dietro. Eccolo. L'ho visto, però, non l'ho ingaggiato. Adesso ingaggia, ma. Eh, sì. Eh, lui è ingaggiato, ma abbiamo uno sopra. Abbiamo uno subito a destra. Sì, 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 è su un tetto, credo. Occhio, vediamo se è sul sensore. Sì, lo è. È sul sensore. 42 metri. Ma cazzo, è andato a negozio. Nuova zona sicura e individuata. Ok. Ha restato qualcuno. Ah, come sono tentato. C'è una maschera, se non ce l'hai? Ce l'ho, ce l'ho, grazie. Non ti seguo. Marca tutte. Sopra lì. Rotto sul tetto. Sopra qui, eh. Ok. Andato. Dove cazzo è andato? Ma forse non è lui. No, no, sì, è ancora qui sopra. Ancora qua, ancora qua. Ah, io ti aspetto la maschera. Sto andando. Cazzo. Mi ha tenuto la maschera, Dio madonna. È qui dietro l'angolo, l'hai visto? No. Sulla mappa, dico. Cazzo. Porca puttana, sta cazzo di maschera. Ah, sì, 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 avevi fatto un partitone, cazzo. Sì. Avevi fatto un cazzo di partitone. No, aveva un porco Dio che palle. Eh, devo andare, talto. Ah, sì? No. Eh, sì. Per me tu sei presa. Allenamento. Cristo. Non è niente. Che peccato. Che peccato. Che peccato. Ma dimmi te, ho sballato la partita con il coglione sul tetto. Eh, sì. Ho ucciso lui, eh. Cosa? Ho ucciso lui. Ma dai. Eh, sì, perché io sono poi uscito. È uscito uno dal... Come si dice? Dall'altra parte dell'incrocio. Che ha iniziato a tirarmi. Faccio per tirare lui. Questo è uscito addietro con la pistola. Mi ha spaccato. Ho girato l'angolo. Poi ha girato l'angolo anche lui. Un colpo in faccia. Un cipo. Scorda, per chi ci segue da casa, programma del weekend? Che cazzerini! Ricordiamo gli appuntamenti del weekend. Eh? Ricordiamo i miei amici telespettatori i programmi del weekend. Ho anche guardato dritto in camera. Quindi quando riguarderai questa cosa sarà... Cioè... Nell'anima. Sei nell'anima! Guarda il finale di questa cosa perché ci sto mettendo del mio. Ok. Allora, aspetta. Fammi vedere. Perché domani mattino spese, pulizie, poi partita, poi cena... domenica. Ah, quindi domani virgola? Ah, madonna. Aspetta. Vabbè che le partite che mi racconti tu durano sette ore, quindi posso capire. Premesso che... Aspetta. Che cazzo è? La partita tua o di Laura? No, Laura no. Ah, l'ora otto. Ma perché è in tedesco sta cosa? Che cazzo è successo? Però domani è alle sei la partita, ok, 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 ok. Quindi domani sveglio all'alba, la sveglio con la tromba. Svegia, pulizie, e poi... Va bene. Eh, eee, eee, mentre invece domenica è domenica trasferta, che palle alle due là. Come trasferta? È trasferta. Quindi. Ma c'hai tra i vittani, basta con le trasferte. Madonna. E quindi... Dalla merda. Dalla merda. Dalla merda. Eh, telespettatore, io chiudo qui. Eh, non... Cosa devo fare? Di fronte... Di fronte al muro, anche l'onda più forte va in francese.